La vedova raccontò Eravamo sposi da pochi mesi, eravamo benestanti, sorella cara. Avevamo frumento, patate, castagne, uva secca, terre, case, cavallo e cane. Mio marito era proprietario, spesso non aveva a che fare e s'annoiava. Allora diceva, voglio diventare negoziante, così ozioso non posso vivere, perché sono sano, forte, abile, e mentre sto in ozio mi vengono le cattive idee. Però non avevamo capitali abbastanza perché gli potesse fare il negoziante. Allora un suo amico gli disse, Zuanne Atonzu, vuoi prendere parte a una bardana? Si andrà in gran numero, guidati da banditi abilissimi, e si assalterà in un paese lontano la casa di un cavaliere che ha tre casse piene d'argenterie e di monete. Un uomo di quel paese è venuto apposta nel capo di sopra per raccontare la cosa ai banditi, invitandoli a fare una bardana. Egli stesso ci indicherà la via. Ci sono foreste da attraversare, montagne da salire, fiumi da guadare, vieni? Mio marito mi svela l'invito del suo amico. Bene, dico io, che bisogno hai tu dell'argenteria di quel cavaliere? No, risponde mio marito, io sputo sulla forchetta che può aspettarmi dopo il bottino. Ma ci sono foreste e montagne da attraversare, cose nuove da vedere, io mi divertirò. Sono poi curioso di vedere come i banditi se la caveranno. Non accadrà niente di male, via. Tanti altri giovani verranno con me, per dar prova di abilità e per passare il tempo. Ebbene, non è peggio se vado alla bettola e mi ubriaco? Io piansi, scongiurai, continuò la vedova, sempre torcendo il filo con le dita scarne e seguendo con gli occhi cupi il movimento del fuso. Ma egli partì, visse di recarsi a Cagliari per affari. Egli partì, ripeté la donna con un sospiro, ed io rimasi sola. Ero incinta. Dopo seppi come andarono i fatti. La compagnia era composta di circa sessanta uomini. Viaggiavano a piccoli gruppi, ma di tanto in tanto si riunivano in certi punti stabiliti per deliberare sul da farsi. Serviva da guida l'uomo del paese verso cui erano diretti. Capitano della Bardana era il bandito Cortedu, un uomo dagli occhi di fuoco e col petto coperto di pelo rosso. Un gigante Golia, forte come il lampo. Nei primi giorni del viaggio piovette. Si scatenarono uragani, i torrenti strariparono, il fulmine colpiono della compagnia. Di notte procedevano al fulgore dei lampi. Allora, arrivati in una foresta vicina al monte dei Sette Fratelli, il capitano riunì i capi della Bardana e disse «Fratelli miei, i segni del cielo non sono per noi propizi. L'impresa riuscirà male. Inoltre, sento l'odore del tradimento. Credo che la guida sia una spia. Facciamo una cosa, sciogliamo la compagnia. Vuol dire che l'impresa si farà un'altra volta». Molti approvarono la proposta, ma Pilato Barras, il bandito Dorani, che aveva il naso d'argento perché il vero glielo aveva portato via una palla, sorse e disse «Fratelli in Dio», e gli usava sempre dire così, «Fratelli in Dio, io respingo la proposta». «No, se piove non vuol dire che il cielo non ci protegga. Anzi, un po' di disagio fa bene. Abitua i giovani a vincere la mollezza. Se la guida ci tradisce, l'ammazzeremo. Avanti, puledri!» Corteddu scosse la testa di Leone, mentre un altro bandito mormorava con disprezzo «Si vede che colui non può fiutare». Allora Pilato Barras gridò «Fratelli in Dio, sono i cani che fiutano, non i cristiani. Il mio naso è d'argento e il vostro è di osso di morto. Ebbene, ecco che cosa io vi dico. Se noi sciogliamo ora la compagnia, sarà un brutto esempio di viltà. Pensate che fra noi ci sono dei giovani alle prime armi. Essi non chiedono che di spiegare la loro abilità come si spiega una bandiera nuova. Se ora invece voi li mandate via, date il loro esempio di vigliaccheria, ed essi ritorneranno fra la cenere dei loro focolari. E resteranno oziosi e non saranno più buoni a niente. Avanti, puledri!» Allora altri capi diedero ragione a Pilato Barras e l'accompagnando avanti. Corteddu aveva ragione, la guida li tradiva. Entro la casa del ricco cavaliere stavano nascosti i soldati. Si combatté e molti banditi rimasero feriti. Altri vennero riconosciuti. Uno fu ucciso. Perché non lo riconoscessero i compagni e lo denudarono, gli tagliarono la testa, la portarono via con le vesti e la seppellirono nella foresta. Mio marito fu riconosciuto e perciò dovette farsi bandito. Io abortii. Mentre parlava, la donna aveva cessato di filare e aveva steso le mani al fuoco. Olì rabbrividiva di freddo, di terrore e di piacere, come il racconto della vedova era orribile e bello. Ah! Ed essa, Olì, aveva sempre creduto che i banditi fossero gente malvagia. No, erano poveri disgraziati, spinti al male dalla fatalità, come era stata spinta lei. Ora ceniamo, disse la donna scuotendosi. Si alzò, accese una primitiva candela di ferro nero e preparò la cena. Patate, sempre patate. Da due giorni Olì non mangiava altro che patate e qualche castagna. Anani è vostro parente? chiese la fanciulla dopo un lungo silenzio mentre cenavano. Sì, mio marito era parente di Anania, ma in ultimo grado, poiché anche lui non era fonnese natio. I suoi avi erano di orgosolo. Però Anania non rassomiglia appunto al beato, rispose la donna scuotendo il capo con disprezzo. Ah, sorella cara, mio marito si sarebbe appiccato ad una quercia prima di commettere l'azione vile di Anania. Olì si mise a piangere. Fece chinare la testa del piccolo Zuanne sulle sue ginocchia. Gli strinse una manina sporca e dura e pensò ai suoi fratellini abbandonati. Essi saranno come gli uccellini nudi entro il nido quando la madre, ferita dal cacciatore, non torna da loro. Chi darà loro da mangiare? Chi farà loro da madre? Pensate che l'ultimo, il più piccolo, non si sa ancora vestire né spogliare. Dormirà vestito allora, rispose la vedova per confortarla. Perché piangi, idiota? Dovevi pensarci prima. Ora è inutile. Abbi pazienza. Il Dio signore non abbandona gli uccelli del nido. Che vento, che vento, si lamentò poi Olì. Credete voi ai morti? Io, disse la vedova, spegnendo la candela e riprendendo il fuso. Io non credo, né ai morti né ai vivi. Zuanne sollevò il capo e disse piano piano. Io ci... E nascose ancora il viso in grembo a Olì. La vedova riprese i suoi racconti. Io poi ebbi un altro figlio, che ora ha otto anni ed è già servetto in un ovile. E poi ebbi questo. Ah, siamo ben poveri adesso, sorella cara. Mio marito non era un ladrone, no, viveva del suo. E perciò dovemmo vendere tutto, tranne questa casa. E come morì? Domandò la fanciulla, accarezzando la testa del bimbo che pareva addormentato. Come morì? Ah, in un'impresa. Egli non stette mai in carcere, osservò con fierezza la vedova. Sebbene la giustizia lo ricercasse, come il cacciatore ricerca il cinghiale. Egli però fuggiva, abilmente, ad ogni agguato. E mentre la giustizia lo cercava sui monti, egli passava la notte qui. Sì, proprio qui, davanti a questo focolare dove stai seduta qui. Il bimbo sollevò la testa con le grandi orecchie improvvisamente accese. Poi la riabbassò sul grembo di Oli. Sì, proprio lì. Una volta, due anni or sono, seppe che una pattuglia doveva percorrere la montagna ricercandolo. Allora mi mandò a dire, mentre i dragoni mi ricercheranno, io prenderò parte ad un'impresa. A ritorno passerò la notte in casa. Mogliettina mia, aspettami. Io aspettai. Tre, quattro notti aspettai. Filai un rotolo di lama nera. E dove era andato? Non te lo dissi, a un'impresa, a una bardana, ecco, esclamò la vedova con una certa impazienza. Poi riabbassò la voce. Io aspettai quattro notti, ma ero triste. Ogni passo che udivo mi faceva battere il cuore. E le notti passavano, il mio cuore si stringeva, si faceva piccolo come il seme di una mandorla. Alla quarta notte udì battere alla porta e aprì. Donna, non aspettare più. Mi disse un uomo mascherato. E mi diede il gabbano di mio marito. Ah! La vedova diede un sospiro che parve un grido, poi tacque. E Olì la fissò a lungo, ma ad un tratto il suo sguardo seguì lo sguardo atterrito di Zoanne. Le manine del bimbo, dure e brune, come zampe d'uccello, si agitavano e additavano la parete. Che hai? Che cosa vedi? Un motto! E gli sussurrò. Ma che è morto! E la disse ridendo, improvvisamente allegra. Ma quando fu a letto, sola in una specie di soffitta grigia e fredda, sul cui tetto il vento urlava ancora più tonante, smuovendo e sbattendo le assi, e la ripensò ai racconti della vedova, all'uomo mascherato che le aveva detto, donna, non aspettare più, al lungo gabbano nero, al bimbo che vedeva i morti, agli uccellini nudi del nido abbandonato, ai suoi poveri fratellini, ai tesori di Anania, alla notte di San Giovanni, a sua madre morta, ed ebbe paura e si sentì triste, così triste che, sebbene si ritenesse dannata all'inferno, desiderò di morire. Due Il figlio di Oli nacque a Fonni, al cominciare della primavera. Per consiglio della vedova del bandito, che lo tenne a battesimo, fu chiamato Anania. Egli passò a Fonni la sua infanzia, e ricordò sempre con nostalgia quel bizzarro paese, adagiato sulla cima di un monte come un avvoltoio in riposo. Durante il lungo inverno, tutto era neve e nebbia, ma in primavera l'erba invadeva anche i ripidi viotoli del paese, selciati di grosse pietre, dove gli scarafaggi si addormentavano beatamente al sole. E le formiche uscivano dalle loro buche, e vi rientravano, e vi si aggiravano attorno indisturbate. Le casupole di pietra bruna, coi tetti di scandule, sovrapposte a guisa di squame di pesce, aprivano sui viotoli le porticine nere. I balconi di legno corroso, le scalette talvolta inghirlandate di vite, il pittoresco campanile della Basilica dei Martiri, emergente dal verde delle querce del vecchio cortile e del convento, dominava il quadretto del paese, disegnato sul cielo di cristallo azzurrino. Un orizzonte favoloso circonda il villaggio. Le alte montagne del Gen Argentu, dalle vette luminose, quasi profilate d'argento, dominano le grandi valli della Barbagia, che salgono immense, conchiglie grigie e verdi, fino alle creste, dove Fonni, con le sue case di scheggia e i suoi viottoli di pietra, sfida i venti e i fulmini. D'inverno il paese era quasi deserto, perché i numerosi pastori, nomadi, che lo popolavano, uomini forti come il vento e astuti come volpi, scendevano con le gregge nella tiepida pianura meridionale. Ma durante il bel tempo un bizzarro via via di cavalli, di cani, di pastori vecchi e giovani animava le straducole. Anche Zuanne, il figlio della vedova, a undici anni era già pastore. Durante la giornata conduceva al pascolo, attraverso i selvaggi dintorni del paese, un certo numero di capre appartenenti a diverse famiglie fonnesi. All'alba, egli passava fischiando lungo le vie, e le capre, che ne conoscevano il fischio, uscivano dalle case e lo seguivano mansuete. Verso sera, egli le riconduceva fino all'entrata del villaggio. Di là, le intelligenti bestiole si avviavano da sole alle case dei loro padroni. Il piccolo Anania seguiva quasi sempre il suo amico e fratello Zuanne dalle grandi orecchie, entrambi costantemente scalzi, con ghette e giubboncino di orbace, lunghi e sucidi calzoni di grossa tela, berretto di pelo di montone. Anania aveva sempre gli occhi malatici, in conseguenza ci sposi. Dal suo nasino rosso colava continuamente un umore salato che egli non esitava a leccarsi o a espandere con la manina sporca di qua e di là del naso, formandosi in tal modo due baffi di crosta di una materia indefinibile. Mentre le capre pascolavano nei dintorni montuosi del paese, fra i cespugli aromatici e le rocce verdi di caprifoglio, i due bambini girovagavano, scendevano verso la strada per lanciare sassolini a chi passava. Penetravano nelle piantagioni di patate, dove lavoravano le donne solerti, cercavano all'ombra umida dei noci giganteschi qualche frutto sbattuto dal vento. Zuan era alto e svelto, Anania più forte e più ardito. Entrambi bugiardi, di una forza unica e agitati da fantasie barbare. Zuan parlava sempre di suo padre, lodandolo e proponendosi di seguirne l'esempio e di vendicarne la memoria. E Anania voleva diventare soldato. «Io t'arresterò», diceva tranquillamente. E Zuan rispondeva con ardore, «e io ti ammazzerò». Quindi giocavano spesso ai banditi, armati di fucili di canna. Avevano certo uno sfondo adatto e Anania non riusciva mai a scovare il bandito, sebbene Zuan, dalla macchia dove si celava, imitasse la voce del cuculo. «Un cuculo vero», rispondeva in lontananza, e spesso i due bambini, smessi i feroci propositi, s'avviavano in cerca del melanconico uccello, ricerca non meno infruttuosa di quella del bandito. Quando sembrava loro di essere vicini al covo misterioso, il grido triste si inghiozzava più lontano, più lontano ancora. Allora, i due fratellini di sventura, affondati fra l'erba e sdraiati sul musco delle rocce, si contentavano di interrogare il cuculo. Zuan era modesto, chiedeva soltanto, «Cucu bello agreste, narami itte ora est». «Cuculo bello agreste, dimmi che ora è?» E l'uccello rispondeva con sette gridi, mentre invece potevano essere le dieci. Ciò nonostante, Anania slanciava le sue coraggiose domande. «Cucu bello e mare, canto sannos, bicheret, a mi sposare?» «Cuculo bello del mare, dimmi quanti anni ci vogliono ancora perché io mi sposi?» «Cucu, cucu!» «Quattro anni, diavolo ti sposi presto!» canzonava Zuanne. «Stanzitto che non ha sentito bene!» «Cucu bello e lizu, canto sannos, bicheret, a fagerfizu?» «Cuculo bello del giglio, quanti anni ci vogliono ancora perché io abbia un figlio?» Qualche volta il cuculo dava un numero ragionevole e i due bimbi, nel silenzio immenso del luogo, interrotto solo dalla voce del melanconico oracolo, continuavano le domande non sempre allegre. «Cucu bello e sorre, canto sannos, bicheret, a mi morrer?» «Cuculo bello di sorella, quanti anni ci vogliono perché io muoia?» «Una volta Anania si avviò solo per la montagna e salì e salì per la strada bianca, attraverso le macchie e i blocchi di granito, su per le chine coperte dai fiorellini violetti del serpillo, finché gli parve d'esser giunto a una cima altissima. Il sole era scomparso, ma dietro le montagne turchine dell'orizzonte pareva che grandi fuochi ardessero, mandando in alto sul cielo tutto rosso una luce ardentissima. Anania ebbe paura di quel cielo ardente, dell'altezza ov'era giunto, del silenzio terribile che lo circondava. Pensò al padre di Zuan e si guardò attorno con terrore. Ah, benché si proponesse la carriera delle armi, aveva paura dei banditi. Mentre Zuan desiderava vivamente di vederli, ed il lungo gabbano nero sulla parete fuliginosa gli faceva spavento. Ridiscese, quasi rotolando dalla cima dove aveva veduto il cielo tutto rosso e le montagne turchine e a Zuan, che lo chiamava urlando, raccontò dove era stato e che li aveva veduti. Il figlio della vedova, dapprima irritatissimo, si commosse e guardò Anania con rispetto. Poi entrambi rientrarono in paese pensierosi e taciturni, seguiti dalle capre i cui campanacci risonavano tristemente nel silenzio del crepuscolo. Quando non seguiva Zuan, il piccolo Anania passava la giornata nel grande cortile della chiesa dei martiri, coi figli del fabbricante di Ceri, il cui laboratorio era in uno stambugio addossato alla chiesa. Grandi alberi ombreggiavano il cortile, melanconico, circondato di tettoie in rovina. Una scalinata di pietra conduceva alla chiesa, sulla cui facciata, semplicissima, stava dipinta una croce. Su questa scalinata Anania e i figli del fabbricante di Ceri passavano ore ed ore al sole appena tiepido, giocando con qualche pietruzza o fabbricando piccoli Ceri di Creta. Alle finestre dell'antico convento s'affacciava qualche carabiniere annoiato. Nell'interno delle celle si scorgevano stivali e giubbe militari e si udiva una voce cantare in falsetto con accento napoletano. «A te questo rosario!» Qualche fraticello, degli ultimi rimasti nell'umido e decadente luogo, lacero, sporco, coi sandali rotti, passava nel cortile pregando in dialetto. Spesso il carabiniere dalla finestra e il frate dalla scalinata si intrattenevano in puerili discorsi coi bimbi del cortile. Qualche volta il carabiniere si rivolgeva direttamente ad Anania chiedendogli notizie di sua madre. «E cosa fa tua madre?» «Fila!» «E altro?» «Va alla fonte!» «Dille che venga qui, che ho da parlarle!» «Sì, signore!» rispondeva il piccolo innocente. E riferiva la cosa ad Olì e Olì gli somministrava in risposta qualche paio di schiaffi e gli proibiva di tornare nel cortile. Eppure una volta egli la vide discorrere con un carabiniere ma egli naturalmente non obbediva perché non sapeva vivere se non con Zuanne o coi figli del fabbricante di Ceri. Tranne la domenica e i giorni della gran festa dei martiri in primavera una solitudine triste regnava nel grande cortile soleggiato sotto le tettoie in rovina piene di odore di cera sotto l'enorme noce che ad Anania sembrava più alto del genargento e nell'interno della basilica le cui pitture e gli stucchi pareva si consumassero per l'abbandono e l'oblio in cui erano lasciati. Eppure egli ricordò sempre con dolcezza nostalgica quel luogo deserto dove in primavera l'avena cresceva fra le pietre e in autunno le foglie rugginose del noce cadevano come ali di uccelli morti. Zuanne che si struggeva per il desiderio di giocare nel cortile e si annoiava quando Anania non lo seguiva era geloso dei figli del ceraiuolo e faceva di tutto perché l'amico non li frequentasse. Vieni domani con me diceva ad Anania mentre arrostivano le castagne sulle brage del focolare ti insegnerò dove si trova un nido di lepri ce ne sono tante vedi così piccole che sembrano le dita di una mano e sono nude con le orecchie lunghe eh come sono lunghe quelle orecchie diavolo concludeva fingendo meraviglia Anania andava in cerca delle lepri e naturalmente non le trovava l'altro giurava che prima c'erano che dovevano essere scappate e peggio per Anania che non era andato prima tu vai con quelli diceva con disprezzo peggio per te ora le lepri fattele di cera vedi se venivi ieri con me e perché non le hai prese tu volevo prenderle con te ecco ora vediamo se troviamo il nido della cornacchia il piccolo pastore faceva di tutto per trattenere Anania ma il bimbo cominciava ad avere freddo lassù ai piedi del monte già coperto di nebbia e tornava in paese di sua madre in quel tempo egli serbò pochi ricordi perché la vedeva di rado e la stava sempre fuori lavorava a giornata per le case o per i campi nelle coltivazioni di patate e ritornava verso sera lacera livida dal freddo e affamata da lungo tempo il padre di Anania non era più tornato a Fonni anzi il bambino non si ricordava di averlo mai veduto chi faceva un po' da madre al piccolo bastardo era la vedova del bandito ella lo aveva accullato lo aveva addormentato tante volte con l'anemia melanconica di strane canzoni tante volte gli aveva pulito la testa tante volte tagliato le unghie dei piedini e delle manine terrose e gli aveva soffiato violentemente il naso ogni sera affilando accanto al fuoco ella narrava le geste eroiche del bandito e i bambini ascoltavano avidamente Maoli non si commuoveva più anzi spesso rintuzzava la vedova o abbandonava il focolare e andava a coricarsi nel suo giaciglio Anania dormiva con lei ai piedi del letto spesso trovava sua madre già addormentata ma fredda gelida e cercava di riscaldarle i piedi coi suoi piedini caldi talvolta la sentiva singhiozzare nel silenzio della notte ma non usava chiederle che avesse perché aveva soggezione di lei però si confidò con Zuanne che a sua volta gli spiegò certe cose devi sapere che tu sei un bastardo cioè tuo padre non è marito di tua madre ce ne sono molti così sai e perché non l'ha sposata perché ha un'altra moglie la sposerà quando questa muore e quando muore questa ah quando Dio vuole devi sapere che tuo padre prima veniva a trovarci io lo conosco sai e com'è chiedeva Anania corrugando le ciglia con un impeto di odio istintivo verso quel padre sconosciuto che non veniva a trovarlo e certo che sua madre piangeva per il suo abbandono ecco diceva Zuanne interrogando i suoi ricordi è bello alto sai con gli occhi come lucciole e ha un cappotto da soldato e dove si trova? a Nuoro Nuoro è una città grande che si vede dal gen argentu io conosco il monsignore di Nuoro perché mi ha cresimato ci sei stato tu a Nuoro? sì io ci sono stato mentiva Zuanne non è vero tu non ci sei stato io mi ricordo che tu non ci sei stato io ci sono stato prima che tu nascessi ecco se vuoi saperlo Anania dopo questi discorsi seguiva volentieri Zuanne anche quando aveva freddo e continuamente gli domandava notizie di suo padre di Nuoro della strada che bisognava percorrere per arrivare alla città e quasi ogni notte sognava quella strada e vedeva una città con tante chiese con palazzi circondata da montagne ancora più alte del gen argentu una sera agli ultimi di novembre o lì dopo essere stata a Nuoro per la festa delle grazie litigò con la vedova già da qualche tempo ella si bisticciava con tutte le persone che incontrava e percuoteva i bambini Anania la sentì piangere tutta la notte e sebbene il giorno prima ella lo avesse bastonato provò una grande pietà per lei avrebbe voluto dirle tacete mamma mia Zohanna dice che se fosse come me quando sarebbe grande andrebbe a Nuoro per cercare il padre e impogli di venirvi a trovare io ci voglio andare ora invece lasciatemi andare mamma mia ma non osava fiatare era notte ancora quando lì si alzò scese in cucina risalì ritornò a scendere e rientrò con un fagotto alzati disse il ragazzetto poi lo aiutò a vestirsi e gli mise intorno al collo una catenella dalla quale pendeva un sacchettino di broccato verde fortemente cucito cosa c'è dentro chiese il bimbo palpando il sacchettino una ricetta che ti porterà fortuna me la diede un vecchio frate che incontrai in viaggio tieni sempre il sacchettino sul seno nudo eh non perderlo mai e com'era il vecchio frate chiese Anania pensieroso aveva una lunga barba un bastone si si una lunga barba un bastone che fosse lui chi lui Gesù Cristo Signore ah forse disse Olì ebbene promettimi che non perderai né darai mai a nessuno il sacchettino giuramelo ve lo giuro sulla mia coscienza rispose Anania gravemente è forte la catenella è forte Olì prese il fagotto strinse nella sua la manina del fanciullo e lo condusse in cucina dove gli diede una scodellina di caffè e un pezzo di pane poi gli gettò sulle spalle un sacchetto logoro e lo trascinò fuori albeggiava faceva un freddo intensissimo la nebbia riempiva la valle copriva l'immensa chiostra dei monti solo qualche alta cresta nevosa emergeva argente assimile al profilo di una nuvola bianca ed il monte spada appariva or sì or no come un enorme blocco di bronzo tra il velo mobile della nebbia Anania e la madre attraversarono le viuzze deserte passarono davanti al grande panorama occidentale sommerso nella nebbia cominciarono a scendere lo stradale grigio e umido che si sprofondava giù giù in una lontananza piena di mistero Anania si sentì battere il cuoricino quella strada grigia vigilata dalle ultime case di fonni i cui tetti di schegge parevano grandi ali nerastre spennacchiate quella strada che scendeva continuamente verso un abisso ignoto colmo di nebbia era la strada per nuoro grazie 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 grazie